L'Abruzzo conosce da vicino il dramma dei migranti approdati nei giorni scorsi a Lampedusa. Ieri pomeriggio, durante una tappa di trasferimento di un gruppo di extracomunitari dal campo pogliese di Manduria a quello di La Spezia, una famiglia di sei sudanesi, marito, moglie e quattro figli piccoli, è stata condotta dalla polizia Vasto. La donna, al terzo mese di gravidanza, aveva avuto un malore durante il viaggio. Subito trasportata in ospedale, la donna è stata visitata nel reparto di ossetricia del Sampio, dove i medici l'hanno rimessa in sesto. Dopo alcune formalità presso il commissariato di Vasto, la famigliola è stata affidata al responsabile delle giacche verdi della protezione civile di Vasto, Eustacchio Frangione. I sei sudanesi resteranno tre o quattro giorni a Vasto presso l'hotellido alla Marina.